Il lavoro non può essere schiavo del mercato. Papa Francesco risponde così sulla stampa allo scrittore Maurizio Maggiani. Lettre quotidiane, telefonate, viaggi un pontefice che colpisce per la normalità dei suoi gesti. Ignazio Ingrao. Schiavi di oggi circondati da un assordante silenzio. È la denuncia di Papa Francesco che risponde a Maurizio Maggiani sulla stampa. Il romanziere gli aveva scritto, accorato, una lettera. I miei libri sono stampati da lavoratori schiavi di una cooperativa veneta. Bergoglio lo ringrazia per il suo coraggio. Dobbiamo dire no al lavoro schiavo. La cultura non si lasci soggiogare dal mercato. Un Papa fra la gente che si fa carico delle ingiustizie ma colpisce anche per la sua straordinaria normalità. Interrompe l'udienza generale per parlare al telefono con uno dei suoi più stretti collaboratori. Un tempo i papi arrivavano alle udienze portate in sedia gestatoria. 43 anni fa Paolo VI la abolì. Ma quella di Bergoglio oggi è una vera rivoluzione di stile, a cominciare dalla borsa in pelle nera che si porta da solo. E dentro cosa c'è? C'è il rasoio, c'è il verviario, c'è l'agenda, c'è un libro da leggere. È normale, ma dobbiamo essere normali. Il pontefice che torna a pagare il conto dell'albergo che lo ha ospitato prima del conclave e va di persona dall'ottico per mettere a posto gli occhiali. Viene da dire, Papa Bergoglio, uno di noi. La lotta alle covid in Italia hanno ricevuto. Ciao! 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 Grazie a tutti